Nuova impresa per l'alpinista imperiese Stefano Sciandra che ha scalato il suo 46esimo 4.000 nel corso della sua straordinaria carriera. Ci facciamo raccontare questa nuova impresa proprio da Stefano Sciandra che ha il telefono con noi che salutiamo. Ciao Stefano, buon pomeriggio e complimenti. Ciao Maurizio, ciao a tutti e grazie. Senti, innanzitutto raccontaci un pochino più nel dettaglio quale cima hai scalato in questo caso. Ma ho fatto la Norden che è la seconda vetta di più alta del Monte Rosa che è composto da quattro cime, la Norden è 4.612 metri, poco più bassa della punta principale che è la Dufour, 4.635 che è l'ultima che mi manca in questo momento. Certo che Stefano è incredibile, dice ho fatto questa cima a 4.600 metri, però come fosse una passeggiata, invece sappiamo e ahimè anche le notizie delle ultime ore ci ricordano come queste imprese non siano affatto una passeggiata, vero Stefano? Beh no, assolutamente, il problema principale sono anche i soliti cambiamenti diciamo climatici, spesso diventa molto faticoso il raggiungimento dei rifugi, ad esempio la Monte Rosa Ute che è a 2.883 metri di quota, per raggiungerla bisogna un po' diciamo tribolare perché si si muove su un percorso che è molto cambiato nel corso degli anni, quindi un ghiacciaio in grande sofferenza, quindi metti i ramponi, togli i ramponi, magari legati perché ci sono dei buchi improvvisi, insomma è impegnativo anche da questo punto di vista, poi nella parte alta devo dire le condizioni erano veramente ottime, il ghiacciaio quest'anno era veramente in ottime condizioni, a parte a quota 4.400 dove c'è un crepaccio di notevolissime dimensioni che non è affatto agevole da superare. Senti, invece questa tua 46esima impresa ha una dedica speciale, una dedica particolare. Sì, l'ho dedicato a mio padre che purtroppo è mancato il 15 aprile di quest'anno, sono tre mesi esatti oggi a causa del Covid, purtroppo è stata una delle tante vittime in casa di riposo perché aveva sì un'età già veneranda, andava verso i 92, però era stabile nelle sue condizioni, io l'ho sempre seguito e assistito sin quando ho potuto, poi essendo solo e non avendo fratelli, sorelle, a casa non riuscivo più a gestirlo per i problemi di salute, avevo trovato una sistemazione in casa di riposo dove stava anche discretamente, poi purtroppo questa epidemia ha colpito duramente nell'RSA ed è stato un dramma umano, non indifferente. Ho fatto anche fatica a riprendermi perché già venivo da un anno di grande difficoltà e sono stato lì lì addirittura per mollare, poi ho detto ma glielo devo, lo devo a mio padre e sono pian piano ripartito. Lo abbiamo già raccontato altre volte, Stefano Sciandra è uno dei soci del prestigioso Club 4000 riservato agli alpinisti che abbiano scalato almeno 30 degli 82, 4000 delle Alpi, giusto? Esatto, gli 82 sono le cime ufficialmente riconosciute dal 1993 quando è stata fatta la mappatura dall'amico Luciano Ratto che è stato il primo uomo al mondo a scalarli tutti in 82, questo signore che oggi ha un'età importante e nell'88 ha completato per primo la scalata di tutti questi 82 cime. Senti però neanche tu Stefano ormai sei più un ragazzino ma la voglia di fare imprese alpinistiche non ti manca, quindi il prossimo obiettivo? Sto valutando se già a fine mese, inizio agosto, fare un tentativo su Pizzo Bernina che in realtà dovrebbe essere la prima cima di quest'anno se non che poi per le condizioni meteo perché soprattutto sulla parte orientale dell'Italia sono sempre stati piuttosto instabili me lo hanno fatto rimandare un paio di volte per cui ho optato prima per la Norden in pratica potrei averle invertite, quindi vediamo se le condizioni fisiche sono buone perché comunque sono abbastanza provato sul piano fisico perché poi anche col dramma che ho vissuto non è che sono al 100% e le condizioni meteo lo permettono potremo tentare il Bernina. Beh intanto però ancora complimenti per questa tua 46esima impresa, il 46esimo 4000 conquistato, scalato nella carriera da Stefano Sciandra che è stato nostro ospite quest'oggi, Stefano complimenti, in bocca al lupo e alla prossima chiacchierata. Grazie mille Maurizio, un abbraccio a tutti. Grazie mille.